Buongiorno, bentornati a Coffee Break, buon avvio di settimana in questo fil rouge che riguarda il coronavirus in Italia che è cominciato da venerdì scorso e che vede la sette e le nostre trasmissioni alternarsi nel dare tutti gli aggiornamenti necessari. Intanto possiamo dire che c'è la quarta vittima in Italia, complessivamente la quarta vittima in Lombardia, complessivamente tre vittime in Lombardia e una in Veneto. Poco fa il governatore della Lombardia Fontana ha fatto sapere che nella sola Lombardia ci sono 165 persone contagiate, quindi cresce il numero dei casi diciamo conclamati di coronavirus che fino a ieri nel tardo pomeriggio era fermo a 152 persone. L'Italia, dopo la Cina e la Corea del Sud, è il paese con il maggior numero di contagiati. Ovviamente ci sono moltissime domande a cui stanno cercando di rispondere soprattutto gli esperti. Diciamo che nelle regioni del nord interessate, Lombardia e Veneto in particolare, ma non solo queste, c'è una sorta di coprifuoco. Sono state vietate diciamo le manifestazioni pubbliche, gli eventi pubblici, per esempio in Lombardia e in Veneto i pub e i bar chiudono alle 6 del pomeriggio fino alle 6 del mattino. Non sono, come sapete, state disputate diverse partite del campionato di calcio. Sono chiusi i musei, sono chiuse le scuole e le università, in verità scuole e università per un periodo di circa sette giorni per vedere ovviamente come procederà la situazione. il governatore Fontana ha fatto sapere che a proposito dell'ultima vittima, un uomo di 84 anni, ha fatto sapere che soffriva di un quadro clinico insomma molto complesso, aveva altre patologie. Insomma ci si attrezza e si cerca di capire intanto perché un'esplosione di questo tipo nel nostro paese e questa è la domanda principale. Tra poco nel corso della nostra trasmissione ci collegheremo con uno dei virologi che in questi giorni avete imparato a conoscere, insomma, che è il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Intanto scusate. Allora, intanto vediamo se c'è Raniero Altavilla che è a Milano, non so, credo, davanti alla sede della regione Lombardia. Ancora non c'è? Dovrebbe esserci... No, va bene, lo sentiamo dopo. Allora Altavilla stiamo approntando il collegamento con Milano per le ultime notizie. Dicevamo il governatore Fontana ha detto molte cose e anche lui si chiede, non essendo un tecnico, non essendo uno scienziato, si chiede perché poi tutto è cominciato da quell'area dell'Odigiano che adesso è completamente chiusa. Come pure c'è un comune del Veneto, che è Voe Uganeo, da cui non si può né entrare né uscire. Sono adesso stati messi intorno a questi paesi dei varchi presidiati dalle forze dell'ordine e nel caso anche dai militari. Intanto vi presento i nostri ospiti, do il bentornato a Claudio Fusani di Scali.it, bentornato a Claudio, do il bentornato a Gaetano Pedulà, direttore della notizia, bentornato a Gaetano, come do il bentornato a Massimiliano Lenzi, eccolo qui dovrebbe apparire tra poco anche Massimo De Manzoni, il condirettore della verità. Intanto facciamo subito un rapido giro perché tra poco andremo nell'epicentro dell'epidemia per quanto riguarda l'Italia e cioè a Codogno. Intanto un primo giro d'opinioni, parto da Gaetano Pedulà. Allora dal tuo punto di vista che cosa vuoi mettere, adesso poi vedremo anche le polemiche politiche che sono scoppiate, cosa vuoi mettere in evidenza? Situazione seria ma bisogna affrontarla con intelligenza. Arrivo proprio adesso dall'aeroporto, vedevo una signora con la mascherina che però era intenta a organizzare il proprio bagaglio e quindi poggiava la mascherina per terra, anzi la strofinava per terra e poi se la rimetteva al viso e pensavo non si ammalerà di coronavirus ma magari si ammala di tante altre cose. Allora intelligenza nell'affrontare una situazione grave cercando di seguire le indicazioni e le precauzioni che ciascuno può prendere e affidarsi alla scienza che è l'unica cosa utile che anche il nostro governo sta cercando di fare e tutti noi dobbiamo provare a fare. Sentiamo Claudia Fusani. Fidarsi dei medici senza dubbio, fidarsi di tutti questi professori che ci stanno spiegando in tutti i modi. Io penso che appunto ognuno di noi dovrebbe pensare a mettersi queste mascherine, proteggersi, bisogna proteggere se stessi e gli altri. Mi rendo conto di essere una tutta minoranza. Penso che tutte queste chiusure non so quanto... sicuramente qualcosa che serve... di sigillare l'area, diciamo, le aree del contagio. Comunque la cosa più importante è appunto fare le cose con un senso di misura, ecco questo senso sicuramente e per una volta per favore spengere le polemiche politiche perché quelle veramente sono... Perché pure sembravano essersi spente invece... No invece gli ari si sono riesplose con una violenza che veramente uno dice ma di cosa stiamo parlando? Adesso ne parliamo, vado da Massimiliano Lenzi perché poi prima si diceva giustamente bisogna affidarsi alla scienza, immunologi, virologi, insomma gli esperti del settore, anche qualcuno di loro batti becca, no? Ieri c'è stata una vivace polemica. La politica faccia un passo indietro e si faccia guidare dalla scienza, però l'abbiamo visto ieri, la comunità scientifica nella valutazione di questo pericolo non è concorde. Burioni ha sempre invitato sin dall'inizio a sopravvalutare i rischi, non è stato ascoltato all'inizio sulla quarantena necessaria dal governo, da chi arrivava dalla Cina. Oggi si rincorre un contagio che è scoppiato in Italia, però abbiamo anche la professoressa del Sacco, la Gismondo, che sostiene invece che è poco più di un'influenza, insomma. Che invita alla calma e dice attenzione. E ieri c'è stata una polemica tra Burioni e la Gismondo. Il punto è, noi invitiamo i politici a non litigare tra loro, però se gli infettivologi e i professori non sono concordi è difficile anche creare... Ma non sono concordi perché non c'è letteratura su questo fenomeno. Allora bisogna parlare meno, secondo me, perché qui l'opinione pubblica ormai è appesa a ogni starnuto. Se si gira per strada e vi capita di vedere una persona che starnutisce... E poi questa potrebbe sfociare in panico vero e proprio. Quindi forse serve uno sforzo comune in quella direzione. Allora scusate, vado da Raniero Altavilla, prima ho detto erroneamente, dalla regione Lombardia, no, invece lì c'è il nostro Schininà che seguiremo tra poco, mentre Raniero Altavilla in questo momento è collegato dal Veneto e lo vedo in compagnia del governatore Zaia. Buongiorno, Raniero. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Siamo con il governatore Zaia. Sono ore molto importanti di confronti e continui. Intanto cominciamo dalla notizia dell'ultima ora. Ci sono novità per quanto riguarda i contagi? Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Abbiamo due contagiati in più. La notizia negativa è che abbiamo due contagiati in più. Quella positiva è che i due contagiati fanno parte di cluster che già conosciamo. Un contagiato che si aggiunge ai 19 di Vo e Uganeo e l'altro contagiato a Venezia. Quindi siamo a tre persone anziane su Venezia contagiate. Tre nel centro di Venezia, nel cuore di Venezia, fa un po' effetto. Sì, fa effetto, però noi dobbiamo guardare la realtà anche con molta obiettività in questa fase perché qualcuno dice, ieri leggevo un articolo da Washington Post, veniamo catalogati un po' da tutta la stampa internazionale come la terza realtà al mondo. Però è anche vero che questo dà anche un significato di una sanità, per fortuna, universalistica che cura tutti i cittadini senza guardare le spese, le cure, i costi dei test, dei tamponi. Provone sia che noi, a prescindere dalle linee guida internazionali e ministeriali, a un certo punto, quando abbiamo visto i nostri tecnici, i nostri sanitari, quando hanno visto che un paziente, che il paziente che poi è deceduto, non dava risposta alle cure, hanno pensato anche di fare la verifica per il coronavirus. Quindi direi che se cerchi trovi, se non cerchi non trovi. Posso chiedere? Scusi, scusi governatore. Le tue parole sono molto importanti perché io, lo vado dicendo da molto tempo, al di là dei casi di mala sanità negli anni in Italia, noi vantiamo un ottimo servizio pubblico, soprattutto alla luce di quanto è finanziato rispetto ad altri paesi europei. Detto questo, le faccio due domande dirette. C'è qualche sindaco che per esempio, questo è successo in Lombardia, non in Veneto, ha mandato un alert dicendo non abbiamo sufficienti tamponi a disposizione. La situazione in Veneto qual è da questo punto di vista? Ma guardi, tamponi se ne comprano, si comprano attrezzature, mascherine, con le difficoltà che hanno i singoli cittadini quando entrano al supermercato e cercano il disinfettante, non vogliono citare il termine commerciale, magari non lo trovano più. Si sappia che se mancano presidi, non mancano perché non ci sono state programmazioni, mancano perché sul mercato, anche internazionale, c'è comunque una carenza di molti presidi. Però al momento noi siamo assolutamente tranquilli su questo fronte. Sì, la seconda domanda volevo farle. Mi pare che siccome la zona epicentro del Veneto è voi e Uganeo, lei prima faceva riferimento parlando di 19 contagiati, mi pare di capire che già da stamattina sono stati attivati i varchi per delimitare, per stringere un cordone vero e proprio intorno a voi e Uganeo. Siccome parlavo anche di tre casi a Venezia, avete in animo di prendere misure più stringenti anche su Venezia? No, guardi, il cordone sanitario importante che è stato fatto e si sta facendo a voi e Uganeo è un cordone che nasce dal decreto fatto dal Consiglio dei Ministri e viene gestito direttamente dalla Prefettura. In generale voi e Uganeo ha delle caratteristiche di un cluster vero e proprio, c'è una popolazione, da un punto di vista ovviamente epidemiologico, che vale circa, non vale circa, sono in questo momento 20 contagiati e tutti attorno a quella dinamica di quella locanda e per cui per questo motivo siamo da un lato alla ricerca del paziente zero o comunque del filone che ci porta al contagio primario, dall'altro ovviamente in via prudenziale, siccome la quarantena nasce in Veneto con la Repubblica Veneta, allora non avevano gli antivirali, non avevano i vaccini ma avevano capito che l'isolamento era fondamentale e quindi si fa quello che si deve fare in questi casi, proporre l'isolamento. Dopodiché ci saranno i cittadini che magari sono positivi al coronavirus, non necessariamente sviluppano la sindrome simili-influenzale, definiamola così, del coronavirus e quindi faranno il loro isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Presidente, è vero che state cercando alcune persone, cittadini cinesi fuori dagli otto cinesi che hanno fatto il test e che sono negativi, altri che invece sembrerebbe non avessero fatto il test, non si sono sottoposti al test? Beh, questo è vero, abbiamo già testato otto cinesi riconducibili alle caratteristiche di quel borgo, insomma a quelle frequentazioni rispetto ai pazienti che abbiamo noi, ma sono negativi, al momento questi otto cinesi sono negativi. In generale, come accade in questi costruisce la pista per tentare di fare un isolamento ben fatto e applicare delle regole ben fatte? La pista ci deve portare al contagio primario, perché noi siamo davanti a dei contagi secondari, dopodiché se non si trovano persone che hanno creato il contagio secondario, cioè che hanno contagiato i nostri cittadini che fossero state in Cina, nelle zone infette, dobbiamo cominciare a dire che il virus è ubiquitario, che molto probabilmente in questo picco influenzale dell'influenza canonica che accade tutti gli anni magari si è sovrapposto in molti casi. Del resto noi scopriamo, abbiamo scoperto il coronavirus per una semplice indagine fatta su delle persone che erano catalogate per sindrome influenzale stagionale. Andrea? Un'ultima battuta al governatore che immagino abbia il suo bel da fare, Claudio Fusani che volevi chiedere a Zaia. Sì, buongiorno, io volevo capire questo, gli altri che sono stati contagiati come stanno? È vero che sono soltanto 48 ore oppure 72 ore, però se ci potete dare qualche informazione sulle condizioni degli altri contagiati? E grazie per quello che state facendo, ovviamente. No, ma guardi, è nostro dovere, cioè io ho, come si può dire, a cuore la salute dei Veneti e il nostro dovere è fare questo. Mi lasci, ne approfitto per questo grazie di girarlo ai miei 54 mila dipendenti della sanità che si stanno veramente, stanno mettendoci anima e cuore in questa partita, stanno rischiando anche del proprio perché comunque il contagio è sempre dietro all'angolo e c'è comunque la volontà di curare bene i Veneti. Per quanto riguarda le condizioni di salute di questi cittadini abbiamo terapie intensive per i più anziani e quindi noi sappiamo che il coronavirus dà complicazioni importanti, a volte anche gravi, in quadri clinici già che sono pregiudicati, che hanno magari in cittadini anziani che magari hanno problemi già di malattie respiratorie pregresse e dall'altro abbiamo dei contagiati, penso i familiari dei primi casi che fanno un isolamento fiduciario ma sono asintomatici e io spero e mi auguro che finisca lì, insomma che non sviluppino neanche la sindrome simile influenzale. Allora, ringrazio il governatore Zaia, ringrazio Raniero Altavilla, subito in pubblicità è tardissimo e ci ritroviamo tra pochissimo perché poi andiamo, dicevamo, nell'epicentro dell'epidemia per quanto riguarda la Lombardia, andiamo proprio a Codogno dove c'è Simona Pedrazzini che ci racconta come si vive nelle zone sigillate e chiuse dove praticamente c'è il coprifuoco. Allora, subito un paio di notizie, intanto la giornata dal punto di vista delle piazze finanziarie è cominciata nel peggiore dei modi, le borse asiatiche tutte in calo con Seul la peggiore ma quello che dobbiamo dire è che le ripercussioni come ovvio ci sono sui mercati europei tutte male le borse europee, pensate Milano aperto con un ribasso del 3,5% sulla C appunto delle preoccupazioni e dei problemi dovuti al coronavirus in Italia. Poi in Emilia Romagna salgono a 16 casi positivi e tutte le infezioni sono riconducibili al focolaio Lombardo cioè di persone che erano state quattro cittadini lodigiani, due cittadini della provincia di Parma che si erano recati a Codogno, quindi tutte persone che avevano avuto rapporti erano stati nell'epicentro diciamo Lombardo del coronavirus poi ci sono due persone in isolamento volontario mentre vedete ecco quelli sono i comuni dell'Odigiano e Lombardia interessati dal blocco vero e proprio ci sono due persone in isolamento nel Cosentino, madre e figlio asintomatici e erano rientrati venerdì da Codogno quindi tutto ci riporta lì. Do un rapido saluto a Massimo De Manzoni Ecco Massimo, buongiorno Buongiorno, scusate il ritardo ma qui la città che doveva essere deserta e nel panico c'è più traffico del solito Questo però dimostra la vitalità anche di Milano e la voglia di reagire Allora facciamo così Massimo, una prima rapidissima battuta e poi andiamo a Codogno per sentire una testimonianza proprio dall'interno di questo paese Se dovessi diciamo evidenziare un elemento stamattina quale evidenzieresti? Evidenzierei che purtroppo abbiamo dato messaggi molto contraddittori e adesso forse c'è un livello di panico e di tensione superiore a quello che dovrebbe essere Abbiamo cominciato innalzando il livello al massimo Non siamo gli unici al mondo che hanno chiuso i voli diretti dalla Cina In seguito a questo poi abbiamo abbassato la guardia in maniera preoccupante Mentre c'erano i virologi che dicevano non si deve fare così Gli abbiamo ignorati e adesso improvvisamente sembriamo la Cina E anche lì forse c'è stata esagerazione Ho anche perplessità su alcune decisioni prese anche a livello locale se devo essere sincero Non solo a livello governativo Faccio fatica a capire come mai per esempio un bar debba chiudere dalle sei in poi Come se il virus timbrasse il cartellino a una certa ora Faccio fatica a capire perché nei bar ci si infette e nei ristoranti no Sulle metropolitane no e invece nei teatri sì Cioè alcune cose secondo me sono state prese un po' in fretta Sull'onda di un'emozione giustificabile per carità Siamo di fronte a una cosa che non conosciamo bene evidentemente Ma che forse stiamo leggermente sopravvalutando a mio modo di vedere Allora questo è l'antipasto di Massimo De Manzoni Adesso poi affrontiamo anche tutto il capitolo che riguarda le polemiche politiche Oltre ad attendere appunto il parere di un virologo A cui tante domande dobbiamo fare il professor Rezza Allora vado da Simona Petrazzini che vive a Codogno Buongiorno Petrazzini Buongiorno a tutti da questa zona così gli appestati Senta, noi ovviamente non vi consideriamo appestati Ci sono delle misure molto stringenti Che sono state prese nei confronti del suo comune Di altri comuni della cintura, insomma della bassa lodigiana Intanto lei mi racconta che succede Cioè qual è il clima, qual è l'atmosfera Che cosa sta succedendo a Codogno? Io posso solo dire che mi ha ricordato l'11 settembre Per cui un'atmosfera spettrale Nessuno, veramente pochissime, pochissime persone in giro Tutto chiuso almeno fino a da sabato e ieri E' difficile soprattutto il fatto dello spegnersi di ogni e qualsiasi attività E questo è estremamente preoccupante Senta, le voglio chiedere una cosa che riguarda la vita di tutti i giorni Ci sono dei supermercati aperti, no? Presso cui approvvigionarsi Sì, pare che facciano i turni Ieri ho visto a Casale Posterlengo le code di fronte ad un supermercato Oggi non so esattamente quale sarà aperto E soprattutto non so, non sappiamo Se possiamo circolare nell'ambito dei comuni della fascia off limit Quelli in quarantena Quindi se da Cavaco si può fare Io devo dire la verità Quello che abbiamo capito è che c'è una fascia di protezione e sicurezza Intorno a tutti i vostri comuni Ma tra un comune e l'altro credo che si possa circolare Sul decreto è scritto che chi sta in questi comuni può uscire di casa Infatti questa cosa che sia tutto chiuso Comunque voi da quello che si legge potete uscire di casa Potete stare nei vostri comuni di competenza Diciamo così, di residenza Non potete andare da un comune all'altro Questo no Però nel vostro Lei può tranquillamente uscire di casa Sì, no, no Certo, io sapevo di potermi muovere all'interno del mio comune Non so se è possibile da Codogno per esempio andare a Maleo No, quello no Ecco, era questa la cosa che non era A meno che non ci siano, da quello che si legge sul decreto A meno che non ci siano motivi specifici di, che ne so, anziani d'assistere o cose del genere Da quello che si legge, da quello che ho capito io leggendo, no Cioè, è molto stringente, sono molto stringenti le misure Però possono uscire di casa, i negozi possono stare aperti I supermercati possono garantire il servizio Diciamo non siete costretti a restare isolati nelle vostre case Ecco, questo si è capito Un'altra cosa che volevo chiederle E siccome tutte le attività, diciamo, commerciali, gli uffici sono chiusi C'è grande attesa anche per un altro decreto che credo il governo si prepara a varare Che riguarda una serie di misure, un po' come è successo per i comuni terremotati Che sospendono i pagamenti di tasse, di bollette, forse anche di mutui Ecco, le volevo chiedere questo, da questo punto di vista qual è la situazione Aspettate anche voi queste misure del governo? Guardi, certamente, soprattutto per noi partite IVA Perché i dipendenti, chi è dipendente ha sicuramente uno stipendio garantito E chi come me è una partita IVA o ha un'attività sia artigianale che di qualunque altro genere Non lavorando ovviamente non avrà la possibilità di ricevere nessuno stipendio Io sono molto preoccupata per questo perché io oggi, per esempio, avrei dovuto andare a Roma Perché collaboro anche con Sergio Bramini Io ho un'associazione a piccoli imprenditori suicidi di Stato Avrei dovuto andare a Roma, a Palazzo Giustiniani Ma sono bloccata qui e oltre a questo non posso muovermi nemmeno per il mio lavoro E non lavorando a me chi mi dà la possibilità di sopravvivere Certo, questa è un'ulteriore preoccupazione Non so se qualcuno di voi vuole rivolgere una domanda a Simona Pedrazzini Io volevo dire questo Io penso che però lei, giustamente, siccome è una questione del suo lavoro e la sua sopravvivenza Credo che possa... Allora, su questo punto di uscire, oppure no, dai vari comuni C'è stato un dibattito abbastanza serrato tra prefetture, polizia di Stato Perché poi ci sono tutta una serie di persone, appunto, poliziotti, grabinieri, eccetera Che controllano i vari barchi Quindi c'è stato un dibattito serrato su questa domanda Ma se uno viola il dispositivo, che succede? Quindi si è deciso di fare la cosa più leggera Ovvero sia una multa, che poi vediamo, perché ovviamente nessuno vuole... Però penso che su questo punto voi, partite IVE, autonomi Chi ha un'esigenza pratica di lavoro Pur tenendo fede ad alcuni limiti oggettivi che dovete fare Mascherini o cose varie Però non vi possono impedire di andare al lavoro o di lavorare Io quindi credo che questa cosa dovreste affrontarla con il prefetto E' un ulteriore, come dire, aspetto e complicazione Sì, ma siccome è stato deciso tutto in fretta oggettivamente Allora magari le cose possono essere affinate C'è Massimiliano Enzi, credo che voglia fare una domanda Volevo chiedere una cosa alla signora che ha esordito questo suo intervento Con un paragone che mi ha molto spaventato Ha citato l'11 settembre Lì c'era un mondo, compreso l'Italia, nel terrore Lei quindi vuol dire che a Codogno vivete nel terrore E le chiedo, le istituzioni non le sente vicine Non la stanno rassicurando, non stanno informando Invitando anche a avere una presa di realtà della situazione No, purtroppo no Io francamente, oggettivamente Questa è una cosa mia personale Anche perché non ho incontrato nessuno Quindi non posso dire esattamente cosa ne pensino altre persone Io non la vivo con terrore Però devo dire che effettivamente le immagini che mi si presentano Quando esco di casa sono abbastanza da day after In giro non c'è nessuno E quindi mi ha veramente ricordato quel momento In cui dall'11 settembre alle 3 del pomeriggio Abbiamo avuto la notizia di quanto era successo a New York Qui è una zona di provincia È una zona circoscritta, anche piccola La circoscrizione di Lodi è forse la più piccola in Italia E francamente io continuo a chiedermi perché qui Cosa è accaduto qui E aspetto delle risposte Io purtroppo non posso lavorare Supponevo che quantomeno qualcuno con un megafono Passasse informandoci E invece questo non è accaduto Io ieri ho girato per le strade E sono andata a leggermi sulle portoni del comune Quelle che erano le disposizioni Hanno soppresso anche i pochi mezzi pubblici che ci sono Per cui non ce ne sono più Io sono con 20 euro Mi auguro che quantomeno le banche Vadano a caricare i Bancomat Perché non c'è possibilità La situazione della vita quotidiana è difficile Che da un giorno all'altro ci si trova In una situazione completamente diversa Ma non è che si possa chiudere delle persone dentro In un recinto e poi lasciarle lì Io mi auguro che intervenga più presto Il governo in questo senso Perché devono andare dentro Tra l'altro se lì c'è il cluster C'è una zona di particolare rischio di diffusione Devono esserci più presidio medico Non meno presidio medico Rispetto al resto del paese Non c'è dubbio Immaginiamo anche il lavoro che hanno i vari sindaci Di questi comuni O piccolissimi comuni Perché credo che l'area tenga complessivamente L'area delimitata è di 50.000 passa abitanti 50.000 persone Non lo so se possiamo mostrarvi anche Le home page dei comuni Di alcuni dei comuni interessati Per esempio Codogno Casal Pusterlengo Noi prima avevamo fatto Ecco vedete Questo è il comune di Casal Pusterlengo Vedete attenzione alle informazioni sul coronavirus Quindi io credo e spero Che le amministrazioni comunali Con in testa i sindaci Diano il maggior numero di informazioni Ai quei siti che noi ci stiamo ponendo Ai cittadini Lì sui siti Di isolamento La presenza delle istituzioni È decisiva Non c'è dubbio Io ti do un provvedimento A tutela della salute pubblica Degli altri Però poi devo pensare Alla situazione quotidiana In ogni modo possibile L'informazione credo Che non stiamo mancando In questo momento nel paese Tutte le televisioni Ma si è creata il panico Ma abbiamo una testimonianza diretta La testimonianza di questa signora È abbastanza scorsiera Scusate perché non è pubblicità Domanda di peduli Ma diretta Signora Lei è consapevole Che tutto quello che sta accadendo È nell'interesse suo E della comunità In cui lei vive Oltre che di tutto il paese Ha consapevolezza Che c'è uno sforzo Per aiutarla Che tutto quello Che le accade attorno Non è come dire Una punizione Nei suoi confronti Ma è qualcosa A suo vantaggio A tutela della salute pubblica Certo È consapevole di questo Le arriva questo messaggio Sì certo È chiaro che sia così Ed è evidente Che sia così Però io Quello che chiedo È la possibilità Nel limite Del possibile Di farci vivere Una vita normale Perché altrimenti Perché altrimenti Uno cosa fa Io sono titolare Di questa associazione Presidente Di piccoli imprenditori Suicidi di Stato Non ci resta che quello A tutti vogliamo vivere Un impedimento è anche molto fresco, quindi io spero che ci sia tutta un'organizzazione. I cittadini credo possano confrontarsi con i questori, con i prefetti, che di conseguenza si relazionano con il governo, e di affinare alcuni punti. Non c'è dubbio. Chi vuole lavorare, non dico a proprio rischio e pericolo, però assumendo tutte le misure che devono essere assunte, di ovviamente evitare di starsi troppo vicino. Difatti molte aziende pensano al telelavoro, per esempio, proprio per cercare di mantenere in qualche modo le attività aperte. Un'ultima battuta da Simona Vedrazzini, prego. Dica, io chiedo solo di agevolare la vita quotidiana. Chiedo alle banche di ricaricare i Bancomat, perché altrimenti non è possibile nemmeno andare a fare la spesa. Non c'è dubbio. Soprattutto le persone anziane che non hanno Bancomat e non hanno nulla. Chiedo di venire informati il più possibile, che i sindaci dei comuni coinvolti ci informino maggiormente. e come autonoma, come partita IVA, chiedo di poter essere messa in condizione di poter lavorare, anche se ho sentito che stanno bloccando, mettono in quarantena chi proviene da questa zona. Io come partita IVA mi muovo, non lavoro. Non c'è dubbio, ma questo riguarda anche tante piccole attività, commercianti, artigiani che vivono lì. Sì, non c'è dubbio. Ma anche, posso dire una cosa che grazie a molte grandi aziende stanno incentivando il telelavoro, il lavoro a distanza. Ma la signora è una partita IVA? Nella misura possibile, anch'io sono una partita IVA. Io direi una cosa, scusatemi, perché dobbiamo andare in pubblicità tardissimo, intanto io ringrazio e saluto Simona Pedrazzini con l'impegno di sentirci tra qualche giorno per vedere se nel frattempo la situazione è migliorata e se insomma è cambiato qualcosa. Grazie. Grazie mille, a presto. Allora, andiamo subito in pubblicità, tra poco. Come ho detto sin dall'inizio, qui non ci può essere differenza di colore politico. Su un'emergenza del genere, emergenza nazionale, noi non possiamo distinguere forze di maggioranza, forze di opposizione. Sono molto contento. Ieri abbiamo, durante il Consiglio dei Ministri, ho interrotto i lavori per informare anche le forze di opposizione. L'unico leader che non sono riuscito a raggiungere dell'opposizione è proprio Matteo Salvini. L'ho chiamato ieri a tutti i cellulari che avevo, gli ho mandato un messaggio, non ho avuto risposta. Se avessi avuto la volontà di rispondermi, gli avrei spiegato come e perché misure più severe non erano perseguibili e sostenibili. Le misure devono essere sempre adeguate e proporzionate e devono essere ovviamente perseguibili in concreto. Anche lei è stato chiamato da Conte? Sì, io ho delegato ai nostri governatori la soluzione di tutti i problemi perché la politica, ci sono momenti in cui deve lasciare spazio ai tecnici. Quindi questo non è il momento dei politici, ma è il momento dei medici, dei virologi, dei ricercatori, degli scienziati. Stiamo affrontando, sin dall'inizio c'è stato riconosciuto dagli altri paesi europei e anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con grande energia, grande rigore, questa evidentemente emergenza. Quindi lei ha parlato di migliaia di prove e tampone, quindi forse dovremmo anche iniziare a valutare i casi che noi scopriamo rispetto alle prove e tampone che effettuiamo. Comparativamente forse negli altri paesi inizieremo a spiegare anche, a riuscire a comprendere perché da noi abbiamo così tanti casi accertati. Siamo in un paese dove chi sbaglia non paga mai. Ebbene, se qualcuno ha sbagliato sulla pelle dei cittadini italiani, qualcuno dovrà chiedere scusa, perché non è possibile scherzare quando c'è di mezzo la salute dei nostri figli. Allora, poco fa Salvini su Facebook ha detto, intanto ha ringraziato gli amministratori della Lega, i governatori, i sindaci impegnati a fronte all'emergenza sanitaria e ha detto che non è il momento delle mezze misure, servono provvedimenti radicali, ha ribadito che serve l'ascolto dei virologi e degli scienziati, servono trasparenza, verità e un'informazione corretta. Controlli servono ancora, controlli ferra e i confini su chi entra nel nostro paese. Poco fa ha parlato anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che praticamente, adesso vi ritroverò, eccolo qui, la sua dichiarazione. La Meloni dice, serve un piano contro il dramma economico da coronavirus, una epidemia che rischia di produrre danni terribili e devastanti alla nostra economia e ovviamente al problema sanitario si aggiungerebbe il dramma economico e quindi la leader di Fratelli d'Italia si rivolge al governo, rivolge un appello urgente affinché si metta a punto un piano straordinario per garantire la stabilità sociale. Servono misure eccezionali per scongiurare la paralisi e la recessione, e aggiunge Giorgia Meloni, noi siamo pronti a dare il nostro contributo se il governo appunto dovesse pensare a misure straordinarie. Insomma, la situazione è questa. Adesso, al di là delle polemiche tra Salvini e Conte, c'è una parte, mi pare, del centrodestra, in questo caso la Meloni e Berlusconi, che leggevo ancora oggi, non è il momento di fare polemiche. Rispondono al telefono quantomeno quando chiamo un Presidente del Consiglio. No, sulla situazione sanitaria abbiamo detto, sulla situazione invece che cresce all'atere, diciamo, nel Paese, dobbiamo assumerci tutti delle responsabilità. Io, in una trasmissione, non questa, ma qui alla 7, il giorno in cui i governatori del Nord proposero la quarantena, diciamo l'elemento, era la quarantena per tutte le persone che provenivano dalla Cina, non soltanto cinesi, dissero, e ci fuggia la polemica. Giusto, l'aveva già proposta il virologo Burioni. Esatto. A onore del vero va detto questo, perché Burioni la sostiene. E io, in quell'occasione, dissi che quella mi sembrava un'azione, come dire, sbagliata, perché già il governo italiano, primo in Europa, aveva deciso di chiudere i voli. C'è molto polemica, peraltro, su questa decisione. Esatto. E mi sembrava, come dire, una mossa eccessiva, per, come dire, fare uno sforzo in avanti. Poi si è dimostrato che invece le precauzioni non sono mai troppe, che quello che è emerso giustificava, poteva giustificare un'azione di quel tipo. Vedo che però, oggi, guardo i giornali, ho qui una rassegna stampa di tutta la stampa nazionale, di tutti i giornali, e vedo giornali che scrivono accogliamo tutti anche il virus, coprifuoco, addirittura un giornale che dice Conte giustifica, si vanta dell'Italia infetta. Allora, io credo che questo sia veramente il momento in cui, e per questo non voglio veramente ulteriormente scendere in polemica o in discussione rispetto a sciacallaggi politici, a strumentalizzazioni, a leader politici che non rispondono al Presidente del Consiglio che cerca di coinvolgere tutti in una emergenza nazionale. È stato fatto poco fa un riferimento, secondo me sbagliato, all'11 settembre. Però ricordo che nell'11 settembre quello era uno stato d'animo di questa persona. Gli americani, di fronte a un attacco che metteva fortemente in pericolo il loro paese, non si divisero in repubblicani e democratici, affrontarono tutti insieme l'emergenza. Ecco, questo è un momento che richiede la stessa serietà. Non è che si spenga il cervello quando si affrontano le emergenze. Si affronta tutte insieme. Questo non significa che quello che è stato fatto vada sempre bene perché non è vero e non significa che quello che viene fatto in questo momento possa andare bene. Gli errori vanno corretti. Giustissimo. E gli errori vanno evidenziati. La strumentalizzazione politica elettorale che può essere sempre. Riprendiamo a Massimilio Lenzi. Diamo rapidamente previsione del tempo poi riprendiamo il discorso. C'ho anche un paio di notizie da darvi. Buongiorno Paolo. Buongiorno, abbiamo un po' di nuvole questa mattina. Non tantissime. Qualcuna sul nord-est, Liguria e Toscana e poi sulle coste tirreniche non sono particolarmente intense. Infatti, se andiamo a vedere non nella prima parte della giornata di oggi in cui non succede nulla ma anche nella seconda parte della giornata di oggi c'è un aumento della nuvolosità sui versanti occidentali della penisola, un po' sul nord-est. Compaiono le piccole macchie verdi. Sono debolissime, possibili, neanche probabili, piogge. Quindi, ancora una giornata di tempo stabile. Domani c'è qualcosa in più perché queste piogge deboli che siano ma localmente vedete sull'Alta Toscana sul confine di nord-est diventano anche localmente moderate e si presentano un poco da nord a sud sempre sul versante orientale occidentale scusate sul nord-est ma anche sul Trentino sulla Lombardia deboli. Qualche precipitazione più intensa sul confine al di là del confine alpino. Mercoledì è una giornata di maltempo non ovunque però sul nord-est le piogge sono moderate o localmente forti sulle zone interne del centro sul basso Tirreno sulle isole maggiori ci sono piogge di una certa consistenza quindi è un peggioramento anche se non particolarmente intenso che lascia un po' al di fuori molte zone del nord vedete quelle macchie gialle fra Svizzera e Francia precipitazioni molto abbondanti ma restano arginate dalle Alpi questo cambiamento del tempo porterà anche un cambiamento delle temperature che scenderanno su valori un po' più normali non si potrà parlare di freddo neanche in questo caso ma siccome siamo molto al di sopra delle medie questo ci riporta un pochino verso la normalità la foto di oggi un tramonto con in primo piano la vetta la parte terminale di un fiore di agave ce la manda Caterina da Castelvetrano siamo in provincia di Trapani città detta degli olivi e dei templi perché Selinunte è in quella zona quindi di templi grazie Paolo sotto corona qualche minuto di pubblicità torniamo qui abbiamo degli aggiornamenti importanti a proposito di coronavirus e le conseguenze del coronavirus in Italia a tra poco allora vi do qualche notizia importante intanto Confcommercio fa sapere che non ci sarà alcun problema nei supermercati delle zone interessate abbiamo visto ieri anche nel milanese vede proprio assalti per accaparrarsi generi alimentari e non soltanto sono state attivate fa sapere Confcommercio consegne extra per rifornire appunto i supermercati poi alle 12 conferenza stampa alla protezione civile a Roma per fare il punto delle misure messe in campo appunto dalla protezione civile sappiamo che il capo della protezione civile Borrelli è anche il capo per l'emergenza coronavirus e poi l'Unione Europea che fa sapere che dall'Italia c'è stata una risposta professionale e competente per fronteggiare il coronavirus la Commissione Europea ha stanziato 230 milioni di euro per aiutare la lotta globale contro la diffusione del virus questo è diciamo sono una serie di aggiornamenti allora vediamo eccolo qua c'è il professor Giovanni Rezza che saluto dell'Istituto Superiore di Sanità bentornato professor Rezza allora senta noi abbiamo credo come tutti gli italiani bisogno di rivolgere qualche domanda come dire di quelle che attendono una risposta allora intanto le voglio fare una domanda che non deve sembrare di gossip così potrebbe apparire ma gliela devo fare lei come sa c'è stata una polemica tra Maria Rita Gismondo che è una microbiologa del sacco e il professor Burioni la prima avrebbe detto guardate è poco più di un'influenza dell'influenza stagionale questo coronavirus poi avrebbe anche indicato il numero delle vittime dell'influenza poi ha ritirato questo tweet o questo posto non mi ricordo Burioni ha detto assolutamente no non è non si tratta di questo ripetendo che ci voleva la quarantena fin dall'inizio per le persone che provengono dai luoghi diciamo epicentro dell'epidemia e come facciamo a capire se anche persone così competenti discutono tra loro beh intanto bisognerebbe evitare protagonismi divisivi in questo momento e su questo io non ho dubbi dopodiché è chiaro che si possono anche esprimere all'interno della comunità scientifica delle opinioni diverse io sono amico di Roberto Burioni ma anche della Gismondo con cui abbiamo un'ottima collaborazione che in questo momento sta facendo un buon lavoro io non penso che si possa fare un paragone fra questo coronavirus e l'influenza quanto meno non si può fare con l'influenza stagionale perché tutt'al più potremo farlo con un'influenza pandemica perché? perché si tratta di un virus nuovo per la popolazione per la popolazione mondiale perché non abbiamo mai avuto un'isposizione a questo virus prima quindi questo fa sì che l'intera popolazione sia suscettibile quindi potenzialmente può essere contagiata per questo motivo il virus si muove velocemente dopodiché se vogliamo dire che le persone che sono a rischio più elevato come accade anche per l'influenza ma soprattutto per l'influenza pandemica perché per l'influenza stagionale i vecchietti sono abbastanza protetti che hanno magari avuto esposizioni in passato a virus simili come per l'influenza diciamo pandemica le persone più a rischio di gravi complicanze o addirittura di morte sono le persone anziane e le persone con malattie croniche dobbiamo pur dire che nei confronti del virus dell'influenza noi queste persone possiamo proteggerle perché proteggiamo le persone fragili con il vaccino anti-influenzale in questo caso non lo possiamo fare allora ritrovarsi una massa di pazienti che affollano gli ospedali ma anche le rianimazioni con una marea di pazienti a rischio perché le persone più anziane costituiscono una grande fetta della popolazione italiana la popolazione abbastanza anziana la nostra è da evitare per questo si giustifiano le misure dragoniane che sono state messe in campo e magari bisogna prendere una precauzione più piuttosto che una precauzione meno quindi bene fare la regione Lombardia a cercare di circoscrivere i focolai e a cercare di ridurre la velocità di circolazione del virus così come il Veneto un paio di domande le chiedo delle risposte sintetiche se ce la fa perché poi abbiamo anche i nostri amici ospiti che vogliono chiedere delle cose l'altra cosa che le chiedo è questa ci sono dei pazienti come si dice delle persone asintomatiche parlo ovviamente dell'epidemia italiana nessuno era andato in Cina non si riesce a trovare come definito il paziente originario il paziente zero perché è molto difficile perché questa è una patologia che in una grande maggioranza dei casi dà semplicemente dei sintomi lievi quindi se una persona è arrivata per esempio dalla Cina mettiamo che fosse un italiano o un cinese con una lineetta di febbre e un po' di tosse se ne è andata magari in giro qualcuno l'ha infettato a quel punto è partita è partito il focolai epidemico per cui è molto difficile andare a ricostruire la storia delle catene di trasmissione questo è uno dei punti diciamo più problematici in questo momento chi è che voleva prego io velocissimo allora la prima domanda che le faccio è allo Spallanzani i due cinesi uno è guarito e uno in via di guarigione ho letto su diversi giornali il ricercatore italiano è guarito ho letto su diversi giornali che gli è stato dato un mix di farmaci usati per combattere l'HIV e l'Ebola può essere quella le chiedo una via per trovare una cura al coronavirus allora aspetta aspetta facciamo rispondere subito il professor Lorenza prego spero di sì spero che questi farmaci dimostrino un'efficacia sul campo però dobbiamo ricordare che la maggior parte delle persone questa grande maggioranza delle persone che sono infette da questo nuovo coronavirus sviluppano la malattia in forma lieve quindi guariscono anche senza bisogno di farmaci dopodiché c'è una proporzione ridotta di pazienti che sono soprattutto pazienti fragili che invece avrebbero bisogno di essere sostenuti una 5% dopo di pazienti critici che hanno bisogno di andare in rianimazione uno dei problemi maggiori se non circoscriviamo l'infezione se non abbattiamo il numero di infetti è che magari ci si riempiono le rianimazioni e dopo non sappiamo come curare i pazienti critici quindi bisogna fare in modo che il virus non circoli velocemente De Manzoni professore io ho parlato con qualche medico in questi giorni anzi ieri per la precisione e mi hanno detto che tutte le misure che si stanno attuando in questo momento si va bene ma fino a un certo punto nel senso che siamo arrivati quando i buoi sono scappati dalla stalla e che ormai il virus è in giro ci dobbiamo aspettare che nascano focolai anche in altre regioni italiane che ormai contenerlo in questi due luoghi non è più possibile è vero o sono troppo pessimisti? è possibile è possibile che nascano altri focolai in altre regioni come è possibile che nascano focolai in molti paesi del mondo questo non vuol dire che non bisogna cercare di contenerli perché se noi lasciassimo scorrazzare questo virus liberamente ci ritroveremmo una massa di pazienti in tutto il paese in poco tempo quindi laddove c'è un nuovo focolaio la Cina anche insegna da questo punto di vista e i cinesi guardate che hanno incominciato a prendere le misure probabilmente un mese dopo o un mese e mezzo dopo che era comparso questa infezione virale che cosa ci insegna? Ci insegna che bisogna comunque fare contenimento bisogna comunque cercare di circoscrivere il più possibile i focolai rallentare la velocità di diffusione del virus perché in questo modo possiamo garantire i cittadini le misure che si prendono non si prendono per allarmare i cittadini si prendono per assicurarli perché io credo che il cittadino faccia piacere sapere che le autorità sanitarie prendono le misure serie perché si preoccupano della diffusione del virus allora Claudia Fusani sì professore buongiorno io volevo chiederle questo ma buongiorno ma non è che possiamo bloccare un paese però perché qui ci sono già noi adesso siamo stati in collegamento con una signora una partita IVA che vive in un paese uno di quelli isolati e giustamente il mio modo di vedere dice ma io devo lavorare allora voi siete i tecnici in questo caso e poi c'è il politico che deve decidere ma non pensa che una volta che uno assume in prima persona e in maniera come dire segue per bene responsabile responsabile ora una paroletta un po' così responsabile comunque segue per bene le dieci regole quindici fatene venti non lo so non pensa che possa bastare invece che chiudere un paese chiudere una regione chiudere una zona intera visto che come lei ha spiegato c'è un rischio soprattutto per le persone già fragili che hanno però diciamo quella fascia che la gente che lavora tra i 30 e 50 e 60 anni deve poter lavorare o no sentiamo la risposta per sua rezza prego il problema è che se facciamo venire a contatto una persona con l'altra laddove il virus sta circolando non mettiamo solo a rischio le persone giovani che contraggono l'infezione e magari nella maggior parte dei casi la superano ma mettiamo a rischio anche le persone più fragili se vogliamo fare questo piacere all'Inps mi scusi la battuta allora che facciamo chiudiamo il paese professore per ora non stiamo chiudendo il paese il paese lo chiuderemmo se non prendessimo queste misure perché il virus scorrazzerebbe liberamente e a grande velocità probabilmente e ci ritroveremmo casi molti casi in gran parte d'Italia bisogna capire che certi provvedimenti vanno presi per contenere il numero di infezioni contenendo il numero di infezioni garantiamo anche ai cittadini servizi essenziali fra cui ospedali e le rianimazioni professore quelle regole che avete dato di stare a distanza di non mettere quando si starnutisce mascherini lavarsi non sono sufficienti per contenere questo volevo chiedere ma lei pensa che in una scuola possiamo tenere i bambini a distanza oltre dall'altro la scuola oppure in un ufficio le persone a distanza uno dall'altro oppure su un mezzo di trasporto possiamo tenere una persona a distanza di due metri uno dall'altro a Roma non ci riusciremo a Milano non so allora un attimo Lenzi meravigliissimo i mezzi di trasporto funzionano volevo farle professore un'ultima domanda l'organizzazione mondiale della sanità speriamo che funzioni l'organizzazione mondiale della sanità ancora ieri esprimeva la sua preoccupazione per non aver identificato in Italia il paziente zero le chiedo tutta questa politica e strategia di contenimento se non si trova l'origine del contagio è possibile o è molto depotenziata nei suoi effetti di salvaguardia della salute pubblica? ormai va fatta prescindere perché io credo che molto difficilmente si possa trovare l'origine del focolaio sa perché? perché chiaramente siccome questa è una patologia molto insidiosa gli asintomatici anche se hanno una bassa probabilità di trasmettere possono trasmettere le persone soprattutto con pochi sintomi e ce ne sono tante possono trasmettere l'infezione questo è un virus respiratorio quindi la tosse il meccanismo della tosse facilita naturalmente la sua diffusione è arrivato in un periodo in cui c'era anche l'influenza quindi se una persona con pochi sintomi ha trasmesso l'infezione ad altri non c'è l'organizzazione mondiale della sanità che poi io ci ho lavorato dopo quindi le posso dire che siano più geniali di noi su questo non c'è l'organizzazione mondiale della sanità che possa andare a ritrovare questo famoso paziente zero a questo punto ce ne faremo una ragione faremo misure di controllo comunque l'arrivo del caldo ci salverà sì o no? allora l'arrivo del caldo è difficile dirlo naturalmente quando arriva la stagione calda a parte che questi virus respiratori in genere sguazzano meglio quando fa freddo è vero soprattutto col clima freddo e secco però c'è da dire che quando arriva la stagione calda si chiudono le scuole naturalmente la gente va in vacanza si sparpaglia non si vive più nei tram nei posti chiusi negli uffici nei cinema si va all'aria aperta quindi il cambiamento comportamentale fa sì che si creino naturalmente quelle misure di distanziamento che noi creiamo artificialmente nelle zone colpite in questo momento grazie professor Rezza la devo interrompere Mirta buongiorno buongiorno Andrea professor Rezza seppur rimanga con noi perché ci stiamo collegando con la sala operativa della protezione civile c'è una riunione in corso del tutto in attesa ci sono tutti tutte le massime autorità da Conte a Speranza a Borrelli capo della protezione civile al capo dello Spallanzani a Ricciardi che poi si collegherà con noi cercheremo di capire perché oggi dovevo stare in istituto a lavorare se rimane un momento con me mi aiuta anche a capire che sta succedendo la ringrazierei molto noi stiamo arrivando abbiamo tutti i nostri inviati nelle zone rosse raccontiamo tutto il paese ci collegheremo con Zaia per capire sul Veneto sapete purtroppo che il numero dei casi accertati sta crescendo di minuto in minuto rimanete con noi moltissimi ospiti tra cui Alessandro Sallusti Gerardo Greco Gennaro Migliore Antonella Boralevi ancora abbiamo Carlo Calenda Paolo Graldi Massimo Caravaglia Alessandra Ghisleri e poi tutti i nostri collegamenti vi aspetto grazie insomma continuo questa sorta di staffetta sulla 7 per essere il più possibile aggiornati su questa situazione l'ultima notizia riguarda i passeggeri di un volo proveniente dall'Italia sono stati bloccati all'aeroporto dell'isola Mauritius dopo lo sbarco ai passeggeri vi verrebbe richiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare in Italia questa è la situazione stiamo diventando i cinesi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a professoressa ci vediamo domani stessa ora stessa rete adesso c'è l'aria che tira ma ti prego